Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo per la giornata di sabato che partirà ancora all'insegna del bel tempo un po' in tutta Italia, ma guardate queste macchie azzurre e viola rappresentano dei temporali che verso fine giornata attraverseranno le regioni settentrionali e poi domenica scivoleranno sul versante adriatico ma perdendo di intensità. Quindi controlliamo la nuvolosità attesa sull'Italia, inizialmente ampie zone di sereno, però ecco queste nubi che raggiungono le regioni settentrionali nella seconda parte del giorno e come vi dicevo porteranno a fine giornata acquazioni anche forti al nord. Controlliamo proprio le precipitazioni attese sul nostro paese, inizialmente nulla di particolare da segnalare, però poi al pomeriggio prime piogge a ridosso delle zone montuose e poi verso sera questi acquazioni entrano anche nelle aree pianeggianti del nord andando a interessare un po' tutta la Valpadana fino ad arrivare al Triveneto. Quindi in definitiva giornata di sabato che partirà sì all'insegna del bel tempo e con clima tra l'altro anche molto mite, proprio e soprattutto al nord dove potremo anche toccare nel primo pomeriggio i 30 gradi. Però poi arrivano queste acquazioni, questi temporali, partono dalle Alpi e dalle regioni di nord ovest per poi estendersi anche al nord est tra la sera e la notte. Per sapere comunque nel dettaglio cosa capiterà proprio da voi scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.